Dal 29 gennaio, se hai 62 anni e 38 di contributi, puoi finalmente richiedere di andare in pensione senza alcuna penalizzazione. Potrai farlo online, attraverso il sito IMSS, consultando il Contact Center o recandoti a un patronato. Con Quota 100, i dipendenti pubblici potranno subito accedere a 30.000 euro della loro liquidazione. E grazie a Opzione Donna, molte più lavoratrici potranno andare in pensione. Con Quota 100, finalmente si può. Grazie a tutti.